Dalle maniche della giubba strappai le stellette e le misi, col denaro, nella tasca interna. Non avevo perduto il capitale. Era bagnato, ma c'era ancora. Lo contai. Tremila e più lire. Ogni cosa che tenevo addosso era attaccaticcia e mi battevo colpi sulle braccia per stimolare la circolazione. Portavo biancheria di lana e sapevo che, muovendomi a sufficienza, avrei evitato il raffreddore. La rivoltella me l'avevano presa i carabinieri. Nascosi la fondina sotto la giubba. Non avevo cappotto e faceva freddo sotto la pioggia. Mi incamminai lungo il canale. Adesso era chiaro e la campagna si stendeva malinconica, umida e piatta. I campi erano spogli. Si scorgeva un campanile lontano nella pianura. Arrivai a una strada dove passavano dei soldati. Mi tenni discosto, fingendo di zoppicare, e nessuno mi badò. Era un distaccamento di mitraglieri diretto verso il fiume. Prosegui lungo quella strada e tutto il giorno camminai in pianura. La pianura veneta è priva di rilievo e soprattutto quando piove. Verso il mare ci sono paludi d'acqua salata e pochissime strade che si dirigono tutte al mare, lungo i fiumi. Per attraversare la campagna si deve prendere i sentieri lungo i canali. attraversavo da nord verso sud e avevo già incrociate due linee ferroviarie e molte strade quando sboccai sulla grande linea ferroviaria che costeggiava una palude. Era la ferrovia Venezia-Trieste con la sua solida massicciata e il doppio binario. Un po' più giù dei soldati stavano a guardia di un passaggio a livello. Dall'altra parte c'era un ponte su un corso d'acqua che finiva nella palude e anche là vidi una sentinella. Percorrendo i campi più a nord avevo scorto di lontano un treno su questa linea. L'avevo seguito con lo sguardo a lungo per la pianura e pensai che un altro poteva passare presto in direzione opposta. Volevo nascondermi alle sentinelle. Mi appiattai sul terrapieno in modo da vedere i binari nelle due direzioni. La sentinella del ponte faceva qualche passo verso di me, poi dietro fronte e tornava verso il ponte. Rimanevo steso accanto ai binari. Avevo fame e aspettavo il treno. Ero sicuro che sarei riuscito a saltar su, ma avevo già quasi rinunciato alla speranza di vederlo quando esso apparve di lontano. La locomotiva si ingrossò lungo in rettilinella. Guardai la sentinella. Era di qua dal ponte, ma seguiva l'altro binario e non mi avrebbe visto passare. La locomotiva si avvicinava, poi vidi che i vagoni erano molti. sapevo che anche il treno doveva avere sentinelle e cercavo di distinguerle, ma era difficile, senza lasciarsi vedere. La locomotiva arrivò alla mia altezza. L'ebbi davanti a me, arrancante e sbuffante. La lasciai passare e poi mi alzai. Feci qualche passo accanto ai vagoni in corsa. In piedi potevo dare minor sospetto. Passarono molti carri chiusi. Poi veniva uno di quei vagoni bassi e aperti, che chiamano gondole. Era coperto da un tendone. Restai fermo finché non fu alla mia altezza. Saltai e, afferrando le sbarre posteriori, mi tirai su. Mi accovacciai tra il carro gondola e quello che seguiva. Non mi pareva che potessero avermi visto. Mi tenevo aggrappato alle sbarre, coi piedi appoggiati sui respingenti. Eravamo quasi al ponte. Mi ricordai della sentinella. Mentre passavo mi guardò. Era quasi un ragazzo. L'elmetto era troppo grande per la sua testa. Lo fissai con un'aria gelida e guardò via. Non potevo aver diritto di stare lì. Ero passato. Lo vidi che fissava gli altri vagoni con un fare malinconico. Mi chinai a studiare com'era legato il copertone. Aveva degli anelli ed era allacciato in basso, al bordo. Presi il temperino, tagliai la fune e con un braccio passai sotto il copertone inrigidito dalla pioggia. Sentì dei colpi duri. Guardai avanti. Mi accorsi che un soldato stava sul carro davanti al mio, ma guardava dall'altra parte. Lasciai le maniglie e strisciai sotto il copertone. Battei la fronte contro qualche cosa, un colpo rude, e mi sentì colar sangue sul viso. Ma continuai a strisciare, finché mi parve d'aver raggiunto il punto giusto, e mi fermai steso sul ventre. Poi, rigirandomi, assicurai di nuovo il copertone. Viaggiavo con dei cannoni e mandavano un piacevole odore d'olio e di grasso. Ero sdraiato sotto il copertone e ascoltavo la pioggia sulla mia testa, lo sferragliare del treno sulle rotaie. Un po' di luce filtrava sui cannoni. Vedevo le cuffie impermeabili. Dovevano appartenere alla terza armata. Mi si era gonfiata la fronte e arrestai il sangue con lo starmene fermo, lasciando coagulare. Poi scrostai il sangue secco fin intorno alla ferita. Una cosa da poco. Non avevo fazzoletto, e lavai la fronte con le dita tenute per un po' nella pioggia che gocciolava dal copertone. Poi mi ripulì con la manica della giacca. Non volevo avere un'aria troppo sospetta. Prima d'arrivare a Mestre bisognava saltar fuori, perché si sarebbero occupati subito dei cannoni. Non potevano permettersi il lusso di trascurare i cannoni. Avevo una fame tremenda. Mi toccò fare una grossa esperienza dell'umidità, del freddo e dei morsi della fame sdraiato sotto il copertone. Quando non ne potei più, mi girai mettendomi steso sullo stomaco. La testa appoggiata alle braccia. Il ginocchio mi si era irrigidito, ma potevo essere fiero del mio ginocchio. Valentini aveva lavorato da maestro. Avevo fatto metà della ritirata a piedi e un bel tratto del tagliamento. Quel ginocchio, però, apparteneva adesso a Valentini. Soltanto l'altro restava mio. I dottori riescono a farti cose che poi il tuo corpo finisce col non essere tuo. La testa era mia e anche gli intestini erano miei. Erano vuoti. Li sentivo torcersi dalla fame. La testa era mia, ma non potevo servirmene per pensare, solo per ricordare, ricordare un poco. Grazie. 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 Grazie.